Grazie. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. 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 Vai Marco! E vai Marco! Grande! Buongiorno! 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 Vai Ricchiavi Vai Ricchiavi Dai la subito Dai Dai E vai Sali, sali, sali Sali, vai Ale Vai Ale Presa Giulio Presa Giulio Ma che passa Ale Tagliela Tagliela Passa sta palla Vai Ale Metti la dentro Metti la dentro Porca du Metti la dentro 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 Dai Marco Deve tirare lo stesso E' destino E' destino Chi ha tirato prima? Per 15 Fori Deve 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 Grazie!